Se soffri di dolore alla bassa schiena questo video ti sarà molto utile perché andremo a vedere insieme quali possono essere le cause di questo dolore e non è detto che sia la schiena ma lo vedremo tra poco e ovviamente quali esercizi puoi fare e devi fare da subito per andare a combattere questo dolore. Partiamo subito, io mi chiamo Klaus, sono un fisioterapista e sono il fondatore di Fiso Social e se questa è la tua prima volta sul nostro canale iscriviti, attiva la campanella di modo da ricevere le notifiche con i nostri video, consigli, strategie per migliorare la salute, combattere i dolori e rimetterti in forma. Allora dolore alla bassa schiena può essere dovuto non solo alla schiena ma a tre componenti diverse, almeno tre perché come sai in medicina e fisioterapia in generale le cose sono abbastanza complesse quindi purtroppo non abbiamo vita facile però ce la mettiamo tutta per farla diventare più facile. Allora il dolore alla bassa schiena può essere dovuto all'articolazione sacroiliaca, può essere dovuto all'articolazione dell'anca può essere dovuto alla bassa schiena quindi alla parte lombare ok? Non andiamo a parlare qua di articolazioni L5, S1, L4, vediamo la regione, dolore alla bassa schiena e quindi come facciamo noi a distinguere se questo dolore deriva realmente dalla schiena e quindi da articolazioni della colonna vertebrale oppure se derivano da un problema dell'articolazione sacroiliaca o dell'anca? C'è un test molto semplice che si può fare. Questo test consiste in una serie di movimenti ripetuti della schiena anche un singolo movimento però se ne possono fare anche diversi e quello che ci interessa capire se questi movimenti ripetuti aumentano o meno il dolore che io ho alla bassa schiena. Se io faccio i movimenti ripetuti della schiena e il mio dolore non aumenta allora sono al 92% nel 92% dei casi sono sicuro che il mio dolore non è dovuto alla schiena ma è dovuto a sacroiliaca anca una delle due o tutte e due insieme. Se invece facendo i movimenti con la schiena il mio dolore aumenta a quel punto lì ho un piccolo problemino perché il mio problema può essere dovuto o solo alla schiena oppure a tutte e tre le componenti o a solo due di queste però non posso escludere la schiena cioè se ho dolore mentre lo faccio non escludo la schiena. Il bello è che posso escluderla dal momento in cui non ho male quando ripeto questo movimento. Adesso andiamo a fare questo test insieme così ti posso già dire se questo video può essere utile per te oppure ti dico no se questo test è risultato in questo modo ti consiglio di andare a vedere degli altri video. Partiamo subito con il test e andiamo a fare dei movimenti ripetuti con la schiena in flessione quindi partiamo da qui andiamo molto ad agio cercando di come se volessimo arrotolare la schiena e andiamo giù così e raddrizziamo la schiena andiamo giù e raddrizziamo la schiena andiamo giù e raddrizziamo la schiena. Man mano che faccio questo esercizio sento che il mio dolore alla schiena aumenta a quel punto li dico ok probabilmente ho una componente legata alla colonna vertebrale ma non escludo anca e sacroiliaca. Cosa succede invece se man mano che faccio questo movimento il mio dolore alla schiena non cambia assolutamente? A quel punto lì sono sicuro che il mio problema è soprattutto e nel 92 per cento dei casi legato alla sacroiliaca e all'anca. Quindi se ti ritrovi nella seconda situazione per cui facendo questo movimento o anche altri movimenti laterali indietro di rotazione il tuo dolore non aumenta allora devi andare qua in alto e a vedere i nostri video sul dolore sacroiliaco e sul dolore legato all'articolazione dell'anca. Guarda questo così puoi cercare di capire quale di questi due componenti può causare il tuo dolore. Se invece facendo questi movimenti ti ritrovi nella prima situazione per cui la schiena man mano che fai movimenti il dolore aumenta adesso andiamo a vedere tre esercizi per combattere questo dolore. Ma prima di vedere gli esercizi ti invito se questo video ti è piaciuto a lasciarci un bel like, farmi sapere nei commenti di cosa ne pensi e ovviamente iscriverti al canale che dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. Allora il primo esercizio che andiamo a fare è un esercizio di mobilità perché come diciamo in tutti i video le tre componenti di una schiena in salute sono la mobilità, la forza della schiena e la stabilità e quindi andiamo a vedere un esercizio per ogni categoria. Andiamo a vedere un esercizio di mobilità che è il solito e famosissimo esercizio del gatto. Quello che devo fare con questo esercizio è andare a sollevarmi in questo modo cercando di ingobbirmi portando giù la testa adesso io faccio fatica perché qua il microfono poi si sente malissimo e poi inarco la schiena e sollevo la cervicale in questo modo, sollevo la testa, vado e ritorno, vado e ritorno. Questo esercizio lo faccio per tre o quattro serie per una decina o quindicina di ripetizione, dico decina quindicina perché è un esercizio di mobilità, non mi interessano le serie di ripetizione e puoi farlo anche con un timer. Metti un timer di due o tre minuti e segui con calma questo movimento cercando magari di associarlo anche al respiro se hai la giusta pazienza, quindi ispiri quando vai su ed ispiri quando vai giù, ok? Il secondo esercizio che andiamo a vedere è un esercizio di rinforzo generale e qui può andar bene anche se ci fosse una componente dell'anca o della sacroiliaca perché è l'esercizio del ponte. Quindi partiamo con l'esercizio del ponte che è abbastanza semplice e soprattutto molto famoso. Ci mettiamo in questa posizione, possiamo tenere le braccia giù oppure le braccia su, così aggiungiamo anche una componente di stabilità diciamo. E quello che dobbiamo andare a fare è andare a sollevare il bacino in questo modo e ritorniamo giù. Sollevo ad agio e ritorno giù. Sollevo e ritorno giù. Durante l'esercizio del ponte devo stare attento a non muovere le ginocchia, cioè le ginocchia e le gambe le anche sono ferme, mi sollevo e ritorno mentre tutto rimane fermo. E questo esercizio lo ripeto per tre serie da 12 ripetizioni. Se il ponte con tutte e due le gambe per te dovesse risultare troppo facile quello che puoi fare è andare a togliere un appoggio. Quindi sollevi una gamba e fai il ponte con una gamba sola in questo modo e ritorni, ok? E poi con l'altra e ritorni. In questo modo lavori solo con una gamba però ovviamente è più instabile come esercizio. Quindi sia il primo che il secondo lo ripeti per le stesse serie e ripetizioni. Il terzo esercizio che andiamo a vedere quindi è l'esercizio di stabilità. Per il terzo esercizio dobbiamo sollevare le gambe in questo modo a 90 gradi anche ginocchia, braccia tese in questo modo e andiamo ad allungare braccio e gambo apposta mantenendo la schiena sempre appoggiata al lettino o al pavimento. Quindi vado così e ritorno, vado e ritorno, vado e ritorno, ok? In questo modo vado a lavorare sulla muscolatura addominale, sul core e sui muscoli che devono stabilizzare la colonna vertebrale in generale e ovviamente lavoro anche sulle anche e sulle spalle. Questo esercizio lo ripeto per due serie da otto ripetizioni perché è abbastanza difficile. Ovviamente puoi sempre aumentare le serie e le ripetizioni. Benissimo eccoci arrivati alla fine di questo video in cui siamo andati a capire inizialmente se il tuo dolore alla bassa schiena è veramente dovuto alla bassa schiena o è più un problema di anca o di sacroiliaca e soprattutto poi che cosa fare in entrambe queste situazioni. In questo video abbiamo visto solo gli esercizi per il problema legato soprattutto alla schiena e quindi abbiamo visto un esercizio di mobilità, un esercizio di rinforzo e un esercizio di stabilità perché sono le tre componenti principali per delle articolazioni sane e in forma. Quindi spero che questi esercizi e questo video ti siano stati utili a capire il tuo dolore e il tuo problema. Ti ricordo di iscriverti al canale, lasciarci un bel mi piace e farmi sapere nei commenti se hai fatto questi esercizi. Ci vediamo alla prossima!